Ciao e benvenuti a Crushed Romance e a questa scuola di uncinetto per mancini. Nella lezione di oggi impariamo a fare la maglia alta tripla, la maglia alta quattrupla e la maglia alta quintupla. Quindi iniziamo con la maglia alta tripla. All'inizio del nostro giro, della nostra riga, dobbiamo fare quattro catenelle per voltare. Due, tre, quattro. Volto il lavoro. Queste quattro catenelle sostituiscono la mia prima maglia alta tripla. Ora devo avvolgere il filo tre volte sull'uncinetto. Entro nella prossima maglia di base, prendo il filo e passo attraverso la maglia. Avrò cinque fili sull'uncinetto. Adesso passo, prendendo il filo, attraverso le prime due, prendo il filo, passo attraverso le prossime due e termino con l'ultime due da chiudere. Ho fatto la mia maglia alta tripla. Facciamo un'altra. Quindi avvolgo il filo tre volte sull'uncinetto, avendo così quattro asole sull'uncinetto. Fermo un po' le mie asole in modo che non scappano con l'indice della mano sinistra. Entro nella prossima maglia, prendo su il filo e ho cinque asole sull'uncinetto. E adesso passo attraverso due, attraverso due, attraverso due e attraverso due. E così ho fatto un'altra maglia alta tripla. Filo tre volte sull'uncinetto, entro nella maglia di base, prendo il filo e ho cinque asole sull'uncinetto. Prendo il filo, passo attraverso due, prendo il filo, passo attraverso due, prendo il filo, passo attraverso due, prendo il filo e passo attraverso le ultime due. E questo è la maglia alta tripla. Ora vediamo come fare la maglia alta quattrupla. Per fare la maglia alta quattrupla, devo fare all'inizio del giro, cinque catenele per voltare. Uno, due, tre, quattro e cinque. Volto il lavoro e queste cinque catenelle sostituiscono la mia prima maglia alta quattrupla. Ora potete già immaginarvi, devo avvolgere il filo sull'uncinetto per quattro volte, creando così cinque asole sull'uncinetto. Entro nella prossima maglia di base, prendo il filo e avrò sei asole sull'uncinetto. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Ora passo sempre unendo due asole alla volta. Quindi prendo il filo, passo attraverso due. 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 E prendo il filo e passo attraverso due. E questa è una maglia alta quattrupla. Facciamo la prossima. Quello che vi voglio dire è che quando fate queste maglie alte, quattruple, triple o quintuple, è importante che non tenete il lavoro troppo largo. Quindi avvolgete ben stretto il filo attorno all'uncinetto. Quattro volte più quella che è già la nostra catenella iniziale. Non potete lasciare adesso molle il lavoro. Vi verrà una brutta maglia. Dovete tenerlo, come vi faccio vedere qua, ben stretto, il filo ben in tensione. Fermate con l'indice della mano sinistra e entrate nella maglia. Vedete come tengo tutto il tempo le mie asole bloccate con l'indice. Prendete il filo e passate attraverso due, due alla volta. Inceppato, facciamo un altro tentativo. Quindi, ve lo spiego un'altra volta. Passate il filo attorno all'uncinetto per quattro volte, avrete cinque asole sull'uncinetto, entrate nella prossima maglia di base, prendete il filo e avrete sei asole sull'uncinetto. Prendete il filo, passate attraverso due, prendete il filo, passate attraverso due, prendete il filo attraverso due, attraverso due, attraverso due. Come vedete, è una maglia veramente molto alta. Adesso vi faccio vedere come fare la maglia alta quintupla e, come vi potete immaginare, in questo modo potete proseguire fare le maglie alte alto quanto volete. Possono essere dei punti decorativi molto interessanti per fare dei shawl o accessori giocando con queste maglie alte che certamente creano degli spazi vuoti, una trama molto aperta. quindi vediamo la maglia alta quintupla come si fa, vi immaginate, avvolgete il filo cinque volte attorno all'uncinetto. Due, tre, quattro e cinque. Entrate nella maglia di base, prendete il suo il filo e avrete sette asole sull'uncinetto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E passate prendendo il filo sempre attraverso due. Per principianti queste maglie sono un po' difficili da realizzare però con un po' di allenamento riuscirete anche voi. quindi facciamone un'altra ho avvolto il filo cinque volte sull'uncinetto entro nella maglia di base prendo il filo e avrò sette asole sull'uncinetto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Prendo il filo passo attraverso due 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 prendo il filo e chiudo la mia maglia alta quintupla come vedete durante la lavorazione facciamo un'altra insieme io accompagno mentre vado in su con l'uncinetto accompagno la mia maglia alta fermandola anche con la mano destra per tenere un lavoro ben stretto vedete come salgo su con la mano destra bene spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo lunedì con la prossima lezione dove impareremo a fare il cerchio magico o anello magico vedrete quanto è facile alla prossima se ancora non siete iscritti iscrivetevi al mio canale condividete questo video se vi è piaciuto e vi ringrazio per aver ascoltato anche questo tutorial ciao 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 ciao